Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi con noi Claudia Pietropoli che è presidente di Federpharma Rovigo e coordinatrice del progetto Conosciamoci Consapevolmente, che è una campagna di sensibilizzazione sul tumore ovarico promossa dall'associazione Loda DV insieme a Federpharma e all'associazione farmaciste insieme. Dottoressa Pietropoli, intanto buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a lei, dottor Miglino. Grazie. Proprio nei giorni scorsi a Bologna nel corso di Cosmopharma è stato presentato l'avvio ufficiale del progetto pilota di Conosciamoci Consapevolmente. Ci vuole spiegare di che si tratta? Allora, Conoscerci Consapevolmente, come è stato detto anche in più di qualche occasione, è una campagna di sensibilizzazione rivolta alle donne che entrano chiaramente in farmacia, donne che noi abbiamo intercettato come target dai 40 anni in su e una campagna di sensibilizzazione sul tumore ovarico, che come abbiamo detto in più di qualche occasione è un tumore molto subdolo nel quale non esiste uno screening in massa come per gli altri tumori e quindi questa campagna di sensibilizzazione che abbiamo fortemente voluto con Federpharma e l'associazione LottoDV assieme alla collaborazione appunto di farmacisti insieme è volta proprio a uno scopo preventivo, ovvero cercare di intercettare il più possibile, sensibilizzare le donne a curarsi anche di più ed eventualmente rivolgersi appunto al ginecologo una volta all'anno oppure prevedere di fare una trasvaginale una volta all'anno. Tutto questo perché abbiamo capito nel proseguo e non solo, anche attraverso i FAD che le farmacie aderenti hanno seguito, abbiamo capito che la prevenzione in questo ambito è l'unica arma che abbiamo a disposizione. L'avvio del progetto pilota, ma in che cosa consiste questo progetto? Il progetto pilota perché abbiamo preso tre aree per poter avere un risultato in termini anche di dati e quindi poter poi attraverso questo progetto pilota che si svolgerà nella provincia di Rovigo, a Roma e a Napoli poter dare poi indicazioni per poterlo portare e poterlo riportare in tutte le farmacie italiane. Questo è il nostro obiettivo. Quindi un progetto pilota per avere dei dati in mano e anche una linea guida, mi permetto di dire, per poterlo poi proporre anche a tutte le altre farmacie italiane. C'è stata però un'occasione importante a Bologna nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto pilota che è stata la presenza dell'onorevole Arianna Lazzarini che ha presentato una mozione che impegna il governo in iniziative proprio di prevenzione del tumore ovarico. Che cosa significa per voi tutto questo? È sicuramente una forza in più che noi abbiamo perché questa mozione darà un input non so se lei si ricorda ma sicuramente i colleghi che mi ascoltano si ricordano il progetto era stato già lanciato al Ministero a fine marzo e da quella conferenza stampa che è stata fatta l'onorevole Lazzarini che fa parte della Commissione Affari Sociali del Parlamento ha inteso attraverso questa mozione dare un input ulteriore a questa campagna di prevenzione ma eventualmente a tutte le campagne di prevenzione che l'auto potesse l'auto che è la situazione appunto che cura, che ha prendo in carico la sensibilizzazione del tumore ovarico tutte le campagne che potessero essere messe in campo a favore appunto della sensibilizzazione di questo tumore. Arianna Lazzarini quindi ha presentato questa mozione alla Camera che prevede di stimolare al Ministero appunto tutte eventualmente le campagne di sensibilizzazione ma poi ha voluto anche attraverso la mozione cercare di stimolare la messa in essere la messa in campo di una commissione interparlamentare chiaramente che si possa occupare di un tumore di questo genere, il tumore ovarico. quindi proprio è un'emozione volta ad un'azione non solo di sensibilizzazione delle campagne ma anche di un incontro istituzionale all'interno del Parlamento ha una valenza importante Per chiudere, dottoressa Pietropoli, vogliamo sottolineare una volta di più quanto le farmacie sul territorio possono fare a tutela della salute della donna? Sicuramente tanto, lo stiamo scoprendo man mano che ci confrontiamo anche con l'associazione Lotto perché proprio sabato l'associazione stessa ci ha dato ulteriore input e ci ha detto quanto importante sia la comunicazione proprio perché intanto nella farmacia è donna e questo l'abbiamo detto più di qualche volta quindi si creano anche quelle situazioni di empatia e anche di confidenza che non è sempre semplice in altri ambiti sanitari e per di più in farmacia entrano nella maggior parte dei casi donne ma è soprattutto la prossimità la capillarità e quindi la confidenza in quella farmacia di relazione che ormai è diventata all'attenzione delle istituzioni non solo ma soprattutto condivisa anche dalla gente bene, ringraziamo Claudia Pietropoli ovviamente in bocca al lupo i migliori auguri per il successo della campagna che ricordiamo e conosciamoci consapevolmente conosciamoci consapevolmente esatto, è dedicato ovviamente al tema del tumore ovarico con l'obiettivo di dare vita a iniziative di prevenzione sul territorio dottoressa grazie, buon proseguimento e buona giornata grazie mille a lei grazie a tutti